cheers a tutti oggi andremo ad assaggiare goes to hollywood del beneficio tol danimarca il grandissimo tol bisogna fare la o e dire la e te lo dico perché la bocca con la o però devi dire ragazzi una cosa andremo a speciarci cosa dobbiamo aspettarci da questa birra una cosa effettivamente una cosa una cosa e dovrebbe essere dovrebbe essere salmastra salmastra addirittura no salata leggermente sapida leggermente sapida allora dovrebbe essere leggermente sapida non lo so poi loro cosa vabbè ok non ti sei informato manco per allora scusa bianca a bolle fini persistente ancora è lì l'abbiamo versato io l'ho versata qualche minuto fa ancora colore colore giallo quasi arancione può essere giallo 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 tuo angolo resta giallo giallo ed è opalescente ed è opalescente 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 devo dire allora allora all'olfatto sentiamo dei sentiamo un po' tipo acqua delle cozze quindi acqua delle cose si sente un po' si sente un odore di agrume pazzesco ma non proprio di agrume però è di che cosa di pompelmo di fluoro io sento un po' di agrume e un po' di quel non so come spiegarlo che il salato non si può sentire all'olfatto però quel salmastro quelle si con l'odore di mare con l'odore di cozzo mauro tipo no l'odore del mauro che è un mauro comunque l'odore ragazzi a proposito di it all abbiamo pubblicato da poco o pubblicheremo tra pochissimo uno shorts con un breve riassunto per breve intendo un brevissimo riassunto perché youtube si ostina a fare un minuto massimo di ci rompe le scatole però purtroppo vorremmo dire tante più cose in questi shorts ma purtroppo purtroppo la piattaforma non ce lo permette c'è un minuto è troppo poco già diciamo come in altre piattaforme caro youtube ok tanto noi non è che cambiamo con te quindi ti possiamo dire quell'altra volta che ho fatto un sondaggio tutto negativo come reputi l'esperienza male come fare malissimo sei soddisfatto no utilizzerà gli altri altri che piace la censura ma che era perché i due decenni senza dire parola che ti piacerebbe di fare video in altri social nei prossimi mesi se tutti comunque ragazzi come youtube ci dà massimo un minuto dobbiamo stringere il più possibile per per cercare di ritrovare il riassunto e possiamo dire veramente poche cose quindi è vero che diciamo secondo me è un format interessante quello la dei benefici hanno fatto la storia della birra artigianale nel loro nel loro paese la birra di qualità del loro paese è però anche vero che in un minuto siamo molto limitati ci sarebbe tanto tante più cose cose da dire però va bene così magari poi faremo altri video era un modo per dire tagliela vabbè scusa andiamo alla birra ok cheers a tutti andiamo all'assaggio abbiamo fatto tutto il resto è caldo è caldo eh sì ragazzi c'è caldissimo non ci possiamo fare niente l'abbiamo tenuta fuori per due ore quindi vabbè però è buona nel senso acidula un'acidità lattica un leggero citrica sì del citrico del sapido io sì il sapido però io non lo so forse per questa alta citricità lo senti poco lo sento poco lo percepisco io percepisco ma allora ragazzi 3,8 gradi quindi bassa gradazione alcolica una birra proprio estiva al cento per cento questa con un grudo di pesce spacca alla grande sia buona questo con un grudo di pesce con una peri di vino con l'antipastino quello la il suscetto ma cose così capito comunque ragazzi allora secondo me è super buona l'abbiamo l'avete vista già su instagram mi pare sì sì su instagram abbiamo pubblicato era una bottiglia anziché la lattina lascia la bocca pulita perché ti pulisce tutte tutte cose un po di astringenza sul finale io non direi astringenza direi secchezza anche io perché la stringenza è quando ti prende tutta la bocca e ti asciuga ti asciuga anche le gengive capito quindi la passiamo alla stringenza ti fa le rughette non solo nella lingua ma anche prima dovrebbe essere secchezza così per dirti una cosa tecnica comunque si a me ti sei imbacchiato tutto di sudore comunque a me dava quella sensazione la quindi per me di rugosità si si ok allora astringenza ragazzi fateci sapere se l'avete provata e se non l'avete volata provatela perché è veramente buona e che dire lasciate un like se il video vi è piaciuto e condividete le scritte al canale attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao